Ha! Sei pronto? Uh! Andiamo! Ehi! Benvenuti in questo nuovo video! Siamo tornati sul canale di... Ebbene sì! Sono sempre io, il vostro carissimo baffo di quartiere, con... Mauri. Semplicemente Mauri. Eggi è rilassato, rilassato, ma non sa che oggi si rovinnerà la sua reputazione, perché sta per cominciare un uomo di uno. E tipo, stai dritto, fatti vedere, guarda qua, che jersey incredibili, ragazzi. Eh? Oggi siamo veramente in assetto da competizione. Eccoci qua, siamo sul nostro padino. Cosa bisogna farvi per cominciare un video? Lasciate un bel like. Grande Mauri. Un'iscrizione e un commento. Un commento. Ma magari anche la campanellina. Campanellina, sì. Magari anche la campanellina, ma va bene, sei stato un grande. Ragazzi, Mauri è già in difficoltà, e se ci fate caso... Volevo la stella blu. Eh, Luca, è quello che ne è finito. Eh, sì. Proprio uso la stella blu. Ah, no. Eh, i pinguinetti... Buono. Cioè, o mi carico la super, oppure qua finisce malissimo. Mi piace, ma oggi ti ho detto che se ne ha perduto una... In contatto, se ne ha perduto una... 3-0 già, in che senso? Arrivo? Tu, tu, tu. Perfetto. No, non ci credo. Ok, una chilo fatta. Ragazzi, allora, la prima partita è andata un po' male. Allora, proviamo con la seconda. Andiamo a giocare in caso adesso. Metto Rico. Così mi faccio subito umiliare. Ragazzi, lo sapete, con Rico sono umane. Oh, oh, attenzione, Mauri, attenzione. Hai la speed. Che bestia che sei. Sei veramente un animale. Voglio averlo imparicato. Come è il tuo catticone? Mettico. Prego. Uh, mamma mia, hai rischiato, hai rischiato a dire. Ti vede tutto quello di qua di da con me. Eh, Masterrico, eh qua. Bella questa? No, dai, ragazzi, per un secondo. No. Giù che ho. Tre, ragazzi, tre. Eh, è tosta, è tosta, è tosta. Eh, no, con uno più uno, ragazzi, Rico, ci va con la speed, è assurdo. Proviamo Dynamite. Oh, con Dynamite ho battuto Maru, quindi magari, cioè. Ma come è possibile che mi hai preso lì? Quella di Dynamite già non mi doveva aiutare, in che senso? No, bravo, bravo te, bravo te. Cos'è? Ah, bello quello. Questa è una santa roba. Oh, 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 attenzione. Attenzione. Oh, bravo, pollastro. Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Scusa, ma hai ristunnato. Ma hai ristunnato? Ma come hai fatto? Perché l'ha tirato prima e mi chiamano male. Ma che cacchio direi? Ma no, ragazzi, cioè, questa giocata qua è assurda. Ma poi non puoi dire che ci siamo più. Ma poi ci sta, no, 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 no. Adesso dico cosa fai, ma in realtà ci stai, è brutto. Per prenderti un buon filtro. Ma che cacchio, ragazzi. No, ma guarda, cioè, non so se avete capito che è successo. Cioè, praticamente, lui ha capito che sarebbe stato stunnato. Ha utilizzato la dinamite in un punto da farsi saltare anche se... Ma come cacchio stai? Anche se era stunnato. Non ti ho aspettato. Ma io non mi hai visto una parola così, ragazzi. Ok, ho fatto qualcosina. Cacchio, è caldo il fungo? Sì. Ma adesso ti ho scattato. Mai. E tu pure, non ti fa. Eh beh, che tattica, grazie. Ma lei. A te non è una gadget. Ai, 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 ai. No! Ti ho infettato, però? Sì, ti ho scaldato. La situazione... Sono one shot, sì, confermo. Dai, ma che... Lo fai apposta! Dai, 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 dai! No, non muori, non muori! Sì, 3, 3, 0, ragazzi. Lo volevi far tu, eh? Lo volevi far tu, eh? No, però mi ha chiedato lo stesso. Ti ho predictato almeno su quello, ma... Ma beh, ma mi... Mi... Mi posso fare una cosa, ma che ti faccio una cosa. Io cosa posso pensare, se non che... Che mi killi con la ulti. Che è la cosa più difficile con sto brawler, effettivamente. Secondo me, con Chuck mi farai i buchi in fronte. Però, però proviamo. No, proviamo, proviamo. Attenzione. La giocata. Arrivo, arrivo, arrivo! Oh, ok, mamma mia! Non è facile, è con Chuck. Dai, lo faccio. Torno, 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 torno. Ok. Ok, buona. No, arrivo, arrivo, arrivo! No, non è da un'altra parte. Arrivo, non è da un'altra parte. Attenzione. Siamo 1, 1, 6, 3, 0. Non è da un'altra parte. Ah, niente. Ti vuoi da vento, te la stupendo. Eh, ma non sono... Ho tutto niente. Dai, per me se ti spaventi... Assurdo. Ma no! Ma tanto non ti chillavo mai più. Non ti chillavo mai più. Oh, abbiamo pareggiato almeno con Chuck. Quindi, ragazzi, ero incricciatutissimo. Oh, quindi ragazzi, un pareggio, quattro sconfitte, mi sembra un ottimo risultato. Ad ogni modo, Mauri, 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 siamo giunti al termine anche di questo video. Eh, ma ragazzi, se vi fa piacere, scriveteci nei commenti. Mauri sicuramente farà altri video con me. Ad esempio, guarda, al primo che mi viene in mente, è un bel rank 30 insieme. Cosa ne pensi? Ragazzi, Mauri non sta più nella pelle. Lo faremo sicuramente. Noi ci manchiamo alla prossima. Vi ricordo di supportare il canale di Reply Totem, è importantissimo. Supporterete anche noi così facendo. Noi ci manchiamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Grande, 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 grande. Numero uno, grande. È stato bello. Guarda, è pazzesco.